il piatto di maga magò questa piatto di maga magò medicina dell'anima un frozen semplicissimo di clementine però ghiacciato nell'azoto liquido accompagnato con questo fungo mistico che lo circonda e una sartelletta classica pasta frolla crema pasticcera e more il fine passo per pulire la bocca grazie grazie a lei